Stipulavano polizie assicurative per conto di ignare compagnie straniere, soprattutto spagnole, ed incassavano i premi senza però fornire una reale copertura ai clienti, tagliando i falsi che mettevano in pericolo anche gli automobilisti che, pensando di risparmiare, giravano senza copertura assicurativa. Così, la polizia di Capodorlando ha denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di truffa gravata i titolari di due agenzie assicurative di Patti e San Piero Patti. Gli agenti del commissariato Paladino, che hanno avviato l'indagine proprio perché nel territorio di Capodorlando sono state fermate le prime auto con tagliandi assicurativi sospetti, hanno lavorato ovviamente in stretta collaborazione con i colleghi di Patti ed hanno quindi smascherato il raggiro che i due avevano messo in atto. Un sistema che il commissariato di Capodorlando conosceva bene perché qualche anno fa un analogo caso venne scoperto a Tortorici. I primi controlli della polizia sono scattati quando è emerso che l'importo da corrispondere per attivare i servizi assicurativi era sempre lo stesso, 200 euro a semestre, indipendentemente da cilindrata o dal tipo di automezzo. La cifra in pratica non cambiava se il mezzo da assicurare era un autocarro, un'autovettura di media cilindrata o persino un'automobile d'epoca. Le perquisizioni presso le agenzie assicurative hanno confermato i sospetti dei poliziotti. Sono stati infatti rinvenute e sequestrate centinaia di polizi abilmente falsificate con contrassegni talmente ben replicati da sembrare veri. Le indagini della polizia di Capodorlando proseguono adesso per individuare eventuali ed ulteriori responsabilità. Le vittime della truffa saranno quindi contattate per informarle di quanto è emerso dalle indagini e del raggiro subito così da raccogliere le relative denunce. Grazie a tutti.